Ciao fragoline, nuovo video. Prima di iniziare, siccome è un video particolare dopo che avete letto dal titolo, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere un like, un commentino qua sotto e ovviamente seguirmi su Instagram. Questo è quello che succedeva su YouTube nel 2019. Invece, cosa succede nel 2020 adesso? Ciao fragoline, benvenuti in questo nuovo video. Allora, nel 2020, ovviamente, adesso i video si registrano con la mascherina, perché o va di moda, o ovviamente è bello, diciamo, registrare con la mascherina. Allora, ovviamente, prima di iniziare questo nuovo video, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram e ovviamente un bel commentino qua sotto. Allora, all'inizio YouTube si iniziava senza mascherina. Invece adesso le persone fanno video su YouTube con le mascherine. Cioè, io ne ho tre per farvi capire. E noto molte persone che registrano con la mascherina. Ovviamente qua in Lombardia è obbligatorio, appena esci di casa a mettere la mascherina. Cioè, così. I video, ormai i video su YouTube si inizieranno così. Faremo i video così, con la mascherina, invece di farla senza. Voi cosa preferite? Con mascherina? o senza mascherina? Allora, volevo fare questo video per ridere un po', per scherzare. Perché all'inizio 2019 i video li fai praticamente così. Come sto facendo io adesso? Invece, c'è chi fa i blog, c'è ok che se vai in giro è obbligatorio, almeno dalle mie parti è obbligatorio. Tipo a Napoli, così, non so se è obbligatorio, ma ad esempio se tu vai in macchina in due, se tu, non so, esci di casa o da solo o con qualcuno, devi mettere la mascherina perché è obbligatorio. Ripeto, dove abito io, dove sono io adesso. Al sud potrebbe essere un'obbligatoria la mascherina. Però, il mio... cioè, quello che voglio dire io, che su YouTube non è obbligatorio la mascherina. Per cui, se notate tutti i video che io faccio, ovviamente la mascherina nei miei video non ci stanno, almeno che sono vlog in cui io esco. Però quasi mai faccio i vlog con la mascherina, faccio vedere queste cose qua. E... dato che volevo fare un video diverso, un video particolare come questo, volevo, diciamo, non lo so, far sì che... vi faccio vedere come è cambiata la vita, praticamente dal 2019 al 2020. E la vita ormai è, per il momento, mascherina. non lo so, all'inizio avevo pensato a come registrare, come fare questo video divertente, dove praticamente ho detto, vabbè, scherziamo, ridiamo e faccio questo video qua. Poi, dopo che ho detto, vabbè, sì, aspetto, lo faccio più avanti. Alla fine... non mi ricordo più cosa devo dire e cosa devo fare. E fu così che questo video, lo sa, è anche un video a caso. Vi dirò la verità, voglio far durare questo video di 10 minuti, anche perché mi sono dimenticata di registrare il video per oggi, che ovviamente io registro... cioè, io registro due giorni prima per far sì che metto i video sul canale. Dato che ieri, che era mercoledì, mi sono dimenticata di registrare il video, che dovevo uscire oggi alle 5, non sapevo che video fare. E ovviamente tutti i video in programma che ho da fare sono abbastanza lunghi, cioè, ovviamente, non è che durano 10 minuti o 15 minuti o 20-35, no. Dico che sono un po' da organizzare, eccetera. Per cui, in poche parole, ho voluto fare questo video qua. E spero che riesco a farlo uscire alle 5, perché sennò lo vedete la prossima settimana, oppure vedete questo video, non so quando, ma io spero, ovviamente, oggi alle 5, sennò sono cavoli. Comunque, detto questo, all'inizio i video iniziavano... no, mi sto anche confondendo. All'inizio i video iniziavano, ovviamente, senza questo. Invece adesso, non so, va di moda a mettere la mascherina, a mettere, diciamo, queste cose qua. Volevo anche dirvi come si usa, dato che ci siamo, anche su questo video. Però non doveva venire così questo video. Vabbè, allora, vi dico che la mascherina, per quelli non chiamano handicappati, perché li chiamano solo non intelligenti, prima, non si porta, adesso vi faccio vedere, non si porta così, la mascherina non si porta così, non si porta neanche così, perché non copre niente. Cosa copre? Niente. Sia alle persone che a voi, per cui così o così la mascherina non si porta. Si porta solo, così. Copriamo il naso e la bocca. Mi raccomando, perché io odio le persone che la mascherina la usano così e così. Per cui volevo dirvi anche questa cosa qua, che è importante, perché a me gente che usa le mascherine così mi fa girare totalmente. Niente. Niente. Questo video doveva essere anche un po' divertente, ma, ripeto, non mi ricordo più che cosa dovevo dirvi. E come farlo. È un video così. Quindi, vabbè, mi confondo, diciamo, in tutti i video che registro. Comunque, vabbè, chiudiamo questo video perché è un video strano. Video. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Questa volta, niente mascherino. Mettete like. Iscrivetevi al canale. E le solite cose. Però, non serve. Secondo me questo qua non serve a niente. Meglio. Allora, queste proteggono di più. Queste qua si proteggono molto di più. Invece, questo così così. Protegge, ma poco. E queste qui proteggono agli altri, ma non a te. Però sono scomodissime. Cioè, mi metti... Praticamente, sono scomode. Cioè, a meno che stringi qua... Ma neanche. Dopo ste cagate, dopo ste cazzate, potrei chiudere. Questo era con e senza il coronavirus. Detto questo, mi chiude. Che forse è meglio. Ciao. Grazie.